Ciao, sono Elena e sono laureata in matematica. Fin dai primi anni di studio qui a Modena mi ha sempre incuriosito capire da dove venisse la matematica che stavo studiando e i personaggi che avevano contribuito a renderla tale. Quindi mi sono appassionata e specializzata nella storia della matematica dell'Ottocento in particolare e dopo la laurea ho ottenuto una borsa di studio della Fondazione Filippo Burce di Torino e nel corso degli anni in cui ho studiato a Torino la passione per la scrittura, in particolare di poesie e per la lettura mi ha portato poi a iscrivermi al Master in Comunicazione della Scienza presso la Sissa di Trieste. Il mio obiettivo è quello di portare la matematica a un pubblico sempre più ampio, dai bambini agli adulti. Da alcuni anni collaboro con Elisa De Benedetti della Puppet House di Modena con la quale svolgo laboratori di arte e matematica per bambini. Scrivo anche articoli di giornali, in particolare per la lettura del Corriere della Sera e ho scritto un libro divulgativo che si intitola Einstein e Associati, edito da OEPL Editore. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la laurea in matematica mi ha dato la possibilità di esprimere al meglio la mia creatività e l'auspicio futuro è quello che sempre più matematici possano legarsi ad altre discipline, creare nuove sinergie con l'arte, la letteratura, la musica e perché no anche il teatro.